Previsioni meteo di martedì 28 luglio. Al nord sole su tutte le regioni, più instabile il tempo contemporane sui rilievi di nord-est tra Trentino Alto Adige, Bellunese, Friuli, Venezia Giulia. Al centro e al sud, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento sull'Appennino settentrionale e sulle coste tirreniche meridionali, venti moderati, mari mossi, temperature stabili.